Amici di Tekamaki eccoci qui con un nuovo video. Oggi vi vogliamo parlare di un accessorio, un accessorio di LG per il suo top di gamma LG G2, di cui poi vi faremo una profondita recensione dopo quasi un mese di utilizzo. Ma lasciamo perdere l'LG G2 e parliamo di questa cover, cover che si chiama Quick Window Cover proprio per l'apertura che si trova frontalmente. Questo ne abilita una funzionalità davvero molto interessante che appunto si trova su questo LG G2. Questa cover è ovviamente di plastica, la parte sul retro è rigida, la parte posteriore è rigida. Troviamo l'apertura per i tasti back e per la fotocamera e l'apertura per il flash LED. Invece la parte anteriore è più morbida, dove troviamo appunto la finestrella, la Quick Window, troviamo il foro per l'altoparlante e per il LED di notifica. Ottime le rifiniture, eccolo qui la rifinitura argentata della Quick Window e soprattutto questo colore blu metallizzato, mentre la parte interna è molto bella al tatto perché è una superficie soft. Davvero molto facile l'installazione, infatti in pochissimi secondi il nostro LG G2 viene installato all'interno di questa cover. Come potete vedere la cover copre solo le parti laterali lasciando aperte la parte inferiore e la parte superiore. Anche lo spessore viene ovviamente modificato, ma devo dire che non si sente poi più di tanto. Come potete vedere non va a peggiorare di troppo lo spessore di questo smartphone. Allora, cos'è questa Quick Window? Cos'è questa finestrella? Eccola qui, è questa funzionalità dell'LG G2 che ci permette di avere tre schermate con la cover chiusa. Quindi attraverso queste tre schermate noi possiamo avere, tra virgolette, alcuni comandi del telefono. Abbiamo la possibilità di gestire la musica, ovviamente c'è la possibilità del doppio tap anche nella Quick Window. Quindi dicevo abbiamo la prima schermata che è la schermata della musica dove possiamo far partire... Possiamo andare a far partire il lettore musicale, possiamo ovviamente scegliere anche di cambiare canzone senza dover mai aprire la cover. Poi abbiamo un'altra schermata che è la schermata meteo in cui abbiamo l'ora, la nostra posizione, il giorno e i gradi della nostra posizione. Possiamo anche effettuare il refresh delle condizioni meteo direttamente dalla Quick Window senza dover aprire l'applicazione. E poi abbiamo la schermata degli orologi. Abbiamo diverse grafiche per gli orologi fino ad arrivare a una grafica che riprende il nostro salvaschermo e dove appunto abbiamo l'ora e il giorno. E poi ripeto abbiamo tantissime altre possibilità di orologio con diversi colori, eccoli qua, che possono essere scelti con uno swipe dal basso verso l'alto o viceversa. Questa è un po' la funzionalità di questa Quick Window, funzionalità che può essere anche disabilitata, anche se non ne capirei il motivo, visto che se uno compra questa cover è proprio per avere questa funzionalità, comunque LG ha dato la possibilità di disattivare anche questa opzione all'interno delle impostazioni. Quindi andando a disattivare, come vedete, la mia Quick Window non viene più riconosciuta dal telefono. Mentre se lo andiamo a riattivare, ecco qui che subito si entra nella modalità Quick Window. Insomma, una cover davvero molto interessante di LG, ma si trova anche con le stesse caratteristiche di altre case, che costano un po' meno. Per ora, nel mercato italiano, noi abbiamo solo trovato le colorazioni nere e bianche. Questa colorazione blu l'abbiamo trovata in altri mercati, costicchia abbastanza come cover. Diciamo che il prezzo adesso di LG, appunto per quelle nere e bianche, si aggira attorno ai 30 euro. Non l'abbiamo pagata qualche cosina di più, ma l'abbiamo presa da mercati esteri. Quindi, sicuramente una cover che protegge, oltre che a dare questa funzionalità al proprio telefono, l'unica pecca che abbiamo notato è che la parte soft della cover, come potete vedere, è molto sporchevole. Noi ce l'abbiamo da circa una settimana e mezza e questa è già la sua situazione dopo appunto questo periodo. Non abbiamo provato a pulirla, non ci vogliamo neanche provare perché non saprei qual è il risultato, ma probabilmente con un panno un po' bagnato, dando una strofinata, probabilmente si riesce a ripulire questa superficie. Non ci proviamo, se volete provateci voi se ne avete una a casa e fateci sapere. Direi che è tutto, un saluto da Francesco Colonna per Tecmaki. Ciao a tutti! Grazie a tutti!